Pietro Satti, autore del libro Il bandito della guerra fredda e anche collaboratore di Antimafia 2000. Quali sono le novità che ci sono in questa nuova opera edita da Imprimatur? Le novità sono quelle relative ai collegamenti del bandito Salvatore Giuliano con ambienti sia del neofascismo e del fascismo della Repubblica di Esalò e sia con i servizi segreti e alcune aree diciamo di confine fra la parte eversiva alla fine della seconda guerra mondiale e quindi all'inizio della Repubblica prima del voto della Costituzione con ambienti eversivi sia monarchici che separatisti sia con anche l'area criminale sia siciliana che italo-americana quindi la mafia italo-americana che era presente molto attiva in quel momento anche per aver dato appoggio allo sbarco degli americani in quel periodo sia alla mafia tradizionale siciliana che in quel momento era di fatto un'istituzione quasi statuaria cioè nel senso era uno stato in sé addirittura riconosciuto come elemento con cui trattare immediatamente alla fine del conflitto per riuscire a garantire la governabilità dell'isola e anche le scelte politiche dell'epoca. Nel libro ci sono anche dei documenti proprio a cui si fa riferimento che tipo di documenti che tipo di ricerca estate che tipo di documenti sono venuti fuori come novità a 70 anni appunto di una strage dove la verità storica se vogliamo probabilmente è diversa da quella processuale. Sì lì è avvenuto una cosa abbastanza particolare cioè mi sono documentato la prima parte di documentazione era per la mia conoscenza con Giuseppe Casarubea che ho conosciuto una decina di anni fa è morto poco tempo fa uno storico di un paese che è Partinico nel Palermitano che è figlio di una delle vittime delle stragi perché sono più di una strage in quel periodo ed è una strage del giugno del 47 quindi poco più di un mese dopo la strage del primo maggio. Quest'uomo ha raccolto migliaia e migliaia di documenti cercando di trovare una verità che fosse comprensibile perché quello che avviene in Sicilia era molto particolare. Lui ha fatto un grossissimo lavoro su archivi soprattutto stranieri, inglesi e americani. Io l'ho completato, ho trovato altre carte che sono state desecretate dopo la sua morte e alcune carte che lui aveva in qualche modo scartato perché la mole della documentazione sia inglese che americana è impressionante e lì c'è stata un'operazione molto particolare che è stata quella poi di andare a rintracciare punti di collegamento che riuscissero a rendere più leggibile tutta la documentazione che compariva in quel periodo. Per quanto riguarda la storia di Portella della Ginestra c'è questa sorta di revisionismo se vogliamo per quanto riguarda proprio il racconto dei fatti avvenuti come se un pezzo di questa storia non si dovesse raccontare, un segreto di Stato permanente. Questo è avvenuto immediatamente, nel senso che c'è stata proprio una campagna mediatica molto sofisticata, operata sia dai servizi e dagli apparati italiani, sia dai servizi americani e sia da alcune aree politiche attive in quel periodo, continuo a ripetere, l'area neofascista collegata al separatismo, la parte monarchica e poi nella fase successiva la democrazia cristiana che in qualche modo utilizzò anche lo spauracchio di Giuliano in quella fase. È avvenuto immediatamente questo perché si è creata un'immagine del Robin Hood siciliano, si è creata l'immagine del ragazzo piacente, sciupafemmine, c'erano queste storie, leggende ma con lui mi invita ancora, del grande colonnello, del Levis, del brigante romantico che sono assolutamente delle menzogne, delle operazioni, un depissaggio continuo che continuano ad avvenire. Per esempio c'è il fatto, dico questo, per esempio c'è il fatto che la cosa più importante che emerge dalle ricerche iniziate da Caserubea, proseguite da me, da altri, posso parlare ad esempio di un collega Paolo Ceccarelli dell'Ansa che ha fatto un grossissimo lavoro su questo, anche lui in passato, la questione è molto semplice. Giuliano era fascista, era contemporaneamente anche un mafioso perché apparteneva a uno dei clan, viene individuato a quello di Partinico, alla famiglia di Partinico, viene indicato sia dal suo logotenente Pisciotta che da Buscetta come appartenente a Cosa Nostra, anzi era mafia siciliana ancora non chiamata Cosa Nostra, quindi affiliato, è fascista, nel senso che lui viene addestrato nel periodo della sua latitanza, viene addestrato dalla decima massa, dai reparti segreti che dovevano essere utilizzati dietro le linee alleate per operazioni di sabotaggio e per operazioni di spionaggio. Le sue tracce si trovano nelle Marche, lo si trovano a Campalto vicino a Verona e quindi una situazione assolutamente falsa questa della sua in qualche modo aurea romantica. È probabilmente un giovane abbastanza megalomane pieno di sé, molto manipolabile e viene costruito perché serviva una figura del genere in quel momento. E la sua complessità, della sua appartenenza multipla e quindi dei suoi rapporti multipli, perché lo avvicinò tutti, dai servizi segreti americani, dalle forze dell'ordine, la democrazia cristiana, i separatisti, lo avvicinò tutti, tutti lo usano e lui si fa usare. Ovviamente alla fine è vittima di questo meccanismo, però lui incarna un momento storico ben preciso che nessuno vuole ammettere di fatto, ovvero che in quel momento, proprio nel momento in cui era appena nata la Repubblica e si stava per andare a costruire la Costituzione, la strage di Portella di Ginesta avviene pochissimo tempo prima della votazione per l'approvazione della Costituzione e quindi c'è la Costituente, infatti quando Scelba deve riferire in aula sui fatti di Portella di Ginesta non lo fa davanti alla Camera o davanti al Senato, ma davanti all'Assemblea Costituente. Quindi immaginate il dramma di questa situazione. che cosa succede? Che lui è assolutamente, e in quel momento era chiaro che c'era una sorta di guerra civile, anzi neanche di una guerra civile, una guerra unidirezionale in cui il nemico erano tutti i diritti sindacali, tutte le sinistre, il Partito Comunista e il Partito Socialista, tutte le aree che volevano dare vita a una democrazia moderna. E in qualche modo viene macchiata immediatamente. Questo non viene accettato. Questa è la strage di Stato ed è la prima strage di Stato. È un modello che poi si ripercuote continuamente in Italia, in tutte le strage di Stato ed anche in alcune strage di mafia. Posso fare ad esempio l'esempio di stragi che cadono proprio nel momento in cui le sinistre cominciano a prendere potere, cominciano l'autunno caldo del 69, Piazza Fontana, 74, vincite il referendum del divorzio, immediatamente Italicos, Brescia. Quando si comincia ad avere una serie di momenti forti di affermazione del Partito Comunista, una serie di stragi continue fino alla strage della stazione di Bologna. Quando cade il muro di Brellino cominciano a partire le stragi di Stato, di tipo mafioso, di Stato e mafia, possiamo chiamarle. Lì la complessità è tale che quel modello che si è creato nel 47, nessuno lo vuole nel 47, in realtà nel 44, nessuno lo vuole accettare, che è quello che in qualche modo è diventato il modello strutturale di pezzi di questo paese che nel momento in cui c'è una reazione in termini progressista che mette in discussione alcuni diritti e alcuni avanzamenti di una democrazia moderna colpisce e colpisce con o l'intimidazione o con la violenza. Cioè stragi alla portale della ginestra e 11 morti, ma intorno ce ne stanno centinaia. Dal 43 al 50 sono più di 500 morti e sono quasi tutti militanti comunisti, dirigenti sindacali, contadini durante le rivolte. Contemporaneamente in tutta Italia ogni manifestazione, cioè la famosa cellera di Scelba, nata subito dopo portare la ginestra, utilizzava autoblindo e mortai contro i manifestanti. Altro che Genova, altro che Genova, questa è una cosa che nessuno vuole accettare. E allora ci stanno, ormai sono decine di revisionisti, fior di storici tra l'altro, che negano l'esistenza della documentazione che esce dagli archivi. Ne nega l'esistenza o ne nega il valore storiografico. E contemporaneamente c'è gente che continua a riabilitare i separatisti o chi appoggiava Giuliano. Questa cosa che sta avvenendo a Nicosia molto particolare proprio in questi giorni in cui si fa sul barone la motta, che era uno di quelli che arruola Giuliano ed era uno dei leader del separatismo e del separatismo quello armato, quindi che aveva il rapporto con Levis e Giuliano che di fatto lo guidava militarmente. Bene, questa persona gli viene fatto nel sentantesimo anniversario a Nicosia, questo era uno sportivo, è morto sulla sua Ferrari correndo durante una gara, è stato presidente anche del Palermo Calcio, ha portato il calcio a Nicosia, ha fondato l'ippodromo qua di Palermo, però contemporaneamente da questa persona, gli si fa un convegno dentro la sede del comune. Io mi domando se a predappio qualsiasi gente, qualsiasi giunta di destra o di sinistra abbia mai fatto una mostra sulle presunte acrobazie e prudezze sportive di Benito Mussolini.